iscriviti al canale prendo il reno perché è fan leggete il form leggete le regole e via io e solo ricordare che lo stesso tornerò sono riuscito con lo 0.4 di talistanti sono caduti quel giorno capita non credo che voleva livellare giocotempo cerco di fare delle treibili lobby leader wife ecco brava le vasche questo per questo torneo non ci saranno lobby leader perché ho fiducia in tutti voi e adesso non c'è leggendo scrivere il tuo account ma vabbè la fai quello che vuoi no cioè qua ci prendiamo dei diritti che insomma i vecchi lobby leader avranno una posizione di vantaggio quello sempre nel mio cuore no lobby leader nel senso che io quando organizzato l'alteo torneo quello che ho fatto qualche mese fa avevo le lobby erano randomizzate ok ma avevo messo primo di ogni lobby una persona diciamo di fiducia ok in modo tale che perché purtroppo non essendo il client facendo schifo come lo sapete benissimo facendo schifo il client il primo della lobby cioè la lobby da otto il primo deve avere deve aggiungere in lista amici tutti e fai partire la lobby ok può essere macchinoso questo lavoro qua e quindi avevo diciamo circuito tutti un po' di ragazzi della chat e e li avevo diciamo nominati lobby leader per fare questa cosa questo lavoro qui per me durante il torneo per questo torneo non lo farò più però comunque ci saranno persone che non lo farò più quindi sarà completamente randomizzato però i primi quelli che a caso capiteranno primi dovranno aggiungere tutti gli altri sette componenti della propria lobby e poi far partire la lobby quando lo dico io credo che lo possano fare tutti questo lavoro quindi per questo torneo quando non ho istituito la figura del lobby leader non è che poi mi arrivano nuvole di gente che mi dice non so come aggiungere la lista amici no sarà tutto chiaro vi fare un bello spiegone prima di iniziare la parola di gv è sempre legge dai ma qui c'ho 150 coppie no si accettano mazzette anche in credito così giusto questo è buono bello va bene devo triplare devo triplare devo triplare ho triplato eh vabbè ha senso prendere lui e lui 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 e lui frizz secondo me va fatto cioè lui è un ottimo pezzo letteralmente non lo usi terribile potevo mettere la 2 1 ultima 0 shin col quinto mese perché oggi è il peepo day ogni sub aumenta un peepo a schermo è il famoso join del peepo è un momento perfetto per assoldare qualche servitore stai affiando lui scegli un servitore che ti porti alla vittoria oh saranno piccoli ma di sicuro sono adorabili ma cazzo è ora finalmente che cazzo faccio vabbè vabbè non devo fare il f4 non ho mai dettagli siamo sicuri che siano 44 potete contare lì sì il prossimo turno riavvia adesso no perché non ho tempo ci sono così potessi ma mettere i miei di quel live è vero è lì ero prima a triplare perché poteva darmi un altro robot un altro log ma devo decisamente e via via è ciao ciao servitore mi mancherai ok io devo comprare selfless non lo compro mi mancherai Non ti ho capito, è un uomo molto tonto, no? Guarda il tuello. Ah no. Vabbè i pezzi da togliere Lui Anche Robaldo Non ho trovato niente Quella Riana che corre mi turba molto Riavvio inutile Totalmente inutile Riavvio di nuovo Vincere o vinto Deve essere impiati Non pendevo Mi ha infiuto Ecco cane Dai Dai Ora sono un'esploratrice Vacca boio Non riesco a trovare i pirati Cioè è pazzesco Per capire quante volte Max In questo momento build pirati Shailizer si prende Max Eh sì Cioè io qua posso perdere Devo metterlo Io dovrei essere a God Infiniti Invece no Si capisce E' un momento perfetto Per assoldare qualche servitore Scegli un servitore Che ti porti alla vittoria Che ti porti alla vittoria Tu ti porti alla vittoria Ah, le probabilità sono a mio favore! Oddio, allenare le gambe! Oh, mi piace molto a questo servitore! Ah, non è un po' più! Ora sono un'esploratrice veterana! Ah, non è un po' più! non vogliamo il vittorio quel servitore ti porterà più vicino alla vittoria che favorito quel servitore ti porterà più vicino alla vittoria arriva un pezzo grosso grandi servitori portano grandi vittorie ho ragione più o meno vincano lì ho dimenticato che ho finito i gold studio una tecnica non lo prendo lui un piccolo amico con grandi soldi proprio come me ciao ciao servitore mi mancherai proprio quello che ti serviva questo è un piatto chain primo posto primo posto ma chi si toglie? penso peggy alla fine oh Tony l'ho messo così ma un po' esotico ecco questo peggy questo Tony ottimistico non è è un po' esotico è un po' esotico il servitore ti porterà più vicino alla vittoria ciao ciao servitore mi mancherai mi mancherai mi mancherai sempre qualcosa è un po' esotico è un po' esotico Per il frutto o la sorte Chissà quale segreti svelerete Volete fare a volte? Volete fare a volte? Più o meno Penso che lui abbia fatto il massimo E che osso è buono E che osso? Ma ha quasi spaccato qualcosa Uno Bella Belle belle Questi pirati sono Belle belle Grazie a tutti